I coniugi Malzone e il dramma lo hanno vissuto in diretta, eravate in casa voi, vero signora Luciana? Sì, abbiamo sentito gli scricchioli, abbiamo notato gli infissi che avevano dei cedimenti e abbiamo pensato di uscire a dormire fuori per la notte, prima che ci avvertissero del pericolo. Dottore Malzone, come si vive da sfollati? Sì, purtroppo è l'esperienza che stanno facendo tanti e mi dispiace moltissimo, mi dispiace anche per noi perché abbiamo perso una casa che era di un grosso valore e in cui c'è stata una vita di lavoro per portarla su. Eppure signora Luciana, era stato giudicato irrilevante il grado di pericolosità dal punto di vista sismico, il punto dove avete costruito la vostra casa? Nel 70, quando mio marito incominciò a ristrutturare la casa di famiglia, non c'era assolutamente nessun rischio. La casa agli inizi degli anni, nell'80, era appena stata ultimata e ha retto perfettamente il terremoto, non ha retto purtroppo questa frana. Dottore Malzone, ed ora, come dire, certamente la vita è cambiata completamente? Ovviamente, abbiamo perso le radici, abbiamo perso le amicizie, speriamo di non perdere le amicizie, però siamo costretti a vivere in una realtà diversa da quella a cui ci eravamo abituati. E per fortuna che avevate un altro punto d'appoggio, un'altra casa voi, perché altrimenti sarebbe stata ancora più dura. Certamente, ci siamo dovuti adattare a un appartamento di città, noi che amavamo vivere in campagna, per noi sarà una nuova esperienza. Una esperienza durissima, dottore Malzone, che mette ancora di più in ginocchio una realtà come quella di Roscigno, già di per sé condannata un po' all'isolamento. No, ma non solo questo, perché tutto questo, io la casa l'ho costruito in una zona assolutamente sicura, ma consideriamo che si stanno continuando a fare lavori che sono assolutamente inadeguati al rischio frana che c'è a Roscigno. Ho cercato di bloccare, perché mi hanno accusato di fare le denunzie, perché il cittadino che scrive è una persona da cui guardarsi. Ho fatto tutta una serie di denunzie sul pericolo che ci stava, sia per i guardraghi, sia per le strade, sia per le frane, il rischio frana, eccetera. Non sono stato assolutamente ascoltato. Ancora, ieri abbiamo fatto un consiglio comunale monotematico, ho cercato di accennare, ma non per polemizzare, ma per avvestire la situazione del nuovo abitato di Roscigno Vecchio, che potrebbe fare la stessa fine nostra, però con conseguenze ben più gravi, non sono stato ascoltato. Al prossimo consiglio, essendo io consigliere comunale, riproporrò la questione in maniera molto più dura. Per concludere, signora Luciana, vivere in una casa diversa da quella che si è calpestata, in pratica fino a qualche giorno fa, sicuramente non rende facilissima la vita. Per ora siamo frastornati. Io ancora non ho ben compreso la realtà delle cose. Mi sembra ancora di poter tornare e di fare una villeggiatura. Questa non la sento casa mia.